Dopo aver inserito Matteo Dionisi, specialista in promozioni nello scacchiere di Giovanni Bucaro, il direttore sportivo Carlo Musa lavora per pescare i profili giusti dai professionisti, compatibilmente sempre con le risorse economiche messe a disposizione dalla proprietà. Si cerca con insistenza un portiere under, dopo Tommaso Vitali, classe 1999 della Ternana, con cui continuano i contatti tra i bianco-verdi e il procuratore Alessio Rollandi della Carrarese, spunta Marco Zicovic della Casertana, cresciuto nella Dinamo Zagabria, classe 1999. In difesa per il ruolo di terzino sinistro si continua a seguire Ciro Pagnico del Potenza. Per quanto riguarda il fronte offensivo, si cerca un giovane, ma anche un over che possa fungere d'alternativa al duo Sforzini-Devena. Ai nomi di Alessandro Scalzone e Carmine De Sena del Bisceglie si è aggiunto quello di Filippo Scardina della propria scienza. Classe 1992, cresciuto nella Roma, ha messo a segno 4 gol in 15 incontri dopo due buone stagioni al Siracusa. In precedenza è vestita anche le maglie di Lupa Castelli Romani, Poggi Bonzi, Viareggio, Pontadera, Gubbio e Como.